Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre con la cronaca. Siamo in vacanza, così avrebbero detto ai poliziotti della Polstrada che li hanno fermati. In realtà nascondevano cocaina, ecstasy e chetamina e allora sono finiti in manette due giovani. Il servizio. Avevano nascosto nei vestiti, anche dentro agli slip, un vero e proprio campionario di droghe. 80 pasticche di ecstasy, 36 grammi di hashish, 17 di cocaina e 33 involucri di chetamina. Tutto già suddiviso in singole dosi, pronte per lo spaccio, ma sono stati scoperti ed arrestati dalla polizia di Stato. È successo lungo il tratto aretino dell'autostrada del Sole dove una pattuglia della stradale di Battifole ha intercettato un Audi A3. Gli occupanti due trentenni, residenti nel Bresciano con alle spalle numerosi precedenti in materia di stupefacenti, non hanno convinto gli investigatori sui motivi del loro viaggio, visto che tutto sembravano meno che dei vacanzieri pronti a farci una gita fuori porta. Quindi la perquisizione, dalla quale è saltata fuori la droga, oltre a 1000 euro in banconote di piccolo taglio, secondo i poliziotti provento delle dosi già piazzate sul mercato. Per i due sono così scattate le manette, attualmente si trovano in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la droga, il denaro e l'auto sono stati sequestrati per la successiva confisca. Attualmente sono in corso le indagini finalizzate, tra le altre cose a capire a quale piazza di spaccio i due si fossero già rivolti e verso quale altre fossero invece destinati. Torniamo a parlare dei furti e degli assalti alle aziende orafe e argentiere di questi ultimi tempi, perché appunto il prezzo del metallo che era salito in queste ultime settimane ha fatto sì insomma che purtroppo gli assalti ci fossero anche nei confronti appunto delle aziende che lavorano argento. Ne abbiamo parlato con un esperto del settore. Sentiamo. Ecco, ci eravamo ritrovati qualche mese fa, poi c'è stato un momento di pausa, adesso gli assalti al settore orafo argentiero sono purtroppo tornati davvero cronaca di tutti i giorni. Tra l'altro ditte anche di argento, questo gli imprenditori ce lo spiegano perché è salito il prezzo del metallo, quindi anche l'argento è diventato diciamo un metallo appetibile. Ma come ci si può difendere? Allora, innanzitutto non facilmente perché la lavorazione dell'argento comporta spessissimo quantità di metallo all'esterno delle cassaforti perché di sotto hanno volumi molto importanti. È vero che è aumentato ma è anche vero che non è che rispetto all'oro, insomma il prezzo è sui 0,80. Chiaramente però vedendo quello che sta succedendo in città è evidente che c'è un allarmismo molto forte perché i furti si ripetono in continuazione. Il primo consiglio che abbiamo dato è di rivedere un po' gli impianti, ora non perché siamo installatori ma effettivamente c'è stato un po' di lassismo negli ultimi anni perché di argento non si parlava mai. Quindi di rivedere con tecnologie innovative, con protezioni più sostenibili la parte impianti. Diciamo queste aziende, molti hanno anche apparati di vigilanza di vecchio tipo e queste qui diciamo hanno un po' di problemi per quello che riguarda la sicurezza della trasmissione a differenza di quelli installati dopo il famoso 2011 che sono inattaccabili. E ultima cosa proteggersi meglio con apparecchiature che evitano perlomeno di avvicinarsi al metallo. Il prodotto che noi diciamo lo stiamo utilizzando da tantissimi anni perché la moda lo utilizzava già 20 anni fa è il nebbiogeno. Il nebbiogeno diciamo in pochi secondi riempie l'ambiente di nebbia e quindi a due centimetri ti permette di non vedere nulla. La nebbia però può essere dannosa sia ovviamente per l'uomo ma anche poi per i macchinari e soprattutto ci può essere un falso allarme? Diciamo è una nebbia identica a quella che viene usata in discoteca oppure negli ambienti di divertimento senza far nome nei parchi giochi dove si entra in queste gallerie nebbiose. Allora il problema del falso allarme è un problema serio perché? Perché una volta che l'apparecchiatura parte per togliere la nebbia dall'ambiente ci vuole un'ora, un'ora e un quarto. Proprio per questo viene, insomma a parte di utilizzare installatori certificati, ma viene utilizzato un sistema che centralizza l'allarme solo esclusamente nell'area dove lavora il nebbiogeno con un sensore ad hoc. Quindi non è che se c'è un falso allarme generale il nebbiogeno piglia e spara. No, il falso allarme generale c'è un preallerta il nebbiogeno e poi quando la persona entra nell'ambito d'azione nei locali dove il nebbione deve lavorare si attiva solo in quel momento lì. Quindi non solo installazione ma anche una manutenzione da affidare insomma appunto agli esperti. Sì, sì, l'apparecchiatore sono muniti di intelligenza artificiale, ora va di modo a dirlo, cioè nel senso che qualsiasi tipo di anomalia tecnica la segnala immediatamente, quindi per evitare proprio questo. Chiaramente queste anomalie vanno riportate immediatamente a un centro di controllo di modo che, ripeto, quando c'è bisogno che questa macchina funzioni deve essere al 100%. Siamo a parlare di elezioni, fanno ancora molto discutere e stanno suscitando una reazione dopo l'altra anche nell'aretino le parole del generale Vannacci. E se facessimo una classe di vegani e mettessimo come proprio da clerici? Vegano no. E per quelli che mettono l'ananas nella pizza? Si deve fare paragoni che non c'entrano nulla. Da anni si lavora per l'inclusione, ma questa le sembra inclusione. C'è chi ci mette l'ironia di mezzo, come la Poti Pictures in questo video con i suoi attori speciali, anzi il suo attore, in questo caso Alessio. Di fatto è ferma e unanime la condanna da parte delle associazioni aretine che si occupano di disabilità a vari livelli rispetto alle affermazioni del generale. La scuola sarebbe migliore, avrebbe detto il candidato al Parlamento Europeo per la Lega, se i disabili fossero messi in classi separate, come accade già nello sport. c'è la categoria paraolimpica. Volutamente fraintese, come sostiene il ministro Salvini oppure no, le frasi del generale continuano a suscitare reazioni. I ragazzi speciali Onlus le definiscono addirittura abominevoli. Il centro Basaglia le ha definite di inaudita bassezza. Special Olympics Italia ritiene aberrante l'idea di un ritorno al passato che calpesti anni di conquiste da parte di genitori, organizzazioni e docenti. Intanto è notizia di queste ultime ore dell'esposto presentato dal Codacons in 104 procure italiane in merito alle dichiarazioni del generale. Generale, ma l'ha proposto lei? Per esempio dobbiamo fare una classe per, che ne so, i terrapiattisti o per i complottisti? La critica, come spesso ripetuto, è il concime del progresso. Parliamo adesso invece di elezioni amministrative. Questa sera su Arezzo TV inonda il confronto tra i candidati sindaco di Marciano della Chiana e poi un'intervista con quella che al momento è l'unica candidata per il comune di Talla, ovvero la sindaca uscente Eleonora Ducci. Ne vediamo allora un piccolo stralcio. Sì, va bene. Ovviamente per chi non mi conosce appunto sono il sindaco uscente, sono Maria De Palma. Che dire, nella mia vita oltre che fare il sindaco faccio anche la professoressa l'inglese, la mamma, la nonna e tutte cose che comunque faccio con passione. Non potrei non fare una di queste cose se non ci fosse l'amore per quello che faccio. Qual è il raggruppamento che la sostiene? Il raggruppamento che mi sostiene è di sinistra ovviamente, quindi a cominciare dal PD, Italia Viva, PSI e quindi tutto quello che è a sinistra. Sono un libro professionista, ho uno studio a Marciano della Chiana ormai da circa 30 anni, non è il centro storico, sono marcianese doc. Quindi dentro la porta. Dentro la porta, sì, primo borghina a sinistra, dietro il comune, vedo il comune, vedo. Sono marcianese doc, le forze che mi sostengono sono tutte le forze di centro-destra, quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega e noi moderati. Ma credo che Talla abbia fatto un percorso importante in questi ultimi dieci anni. Sicuramente nei primi cinque anni abbiamo davvero gettato le basi per quello che poi è stato questo secondo mandato che ha portato tante risorse, tante innovazioni, tanta capacità di reperire finanziamenti e quindi davvero l'avvio di un percorso che secondo me ha portato Talla a crescere e che sarà ancora a sua volta la base, noi speriamo per i prossimi cinque anni, per uno scatto ancora, un passo in avanti ulteriore. Proclamato da una sigla sindacale, autonoma, uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato dalle 21 di sabato 4 maggio alle 21 di domenica 5. Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo, si legge in una nota proprio di FS, sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali o parziali di frecce, intersiti e treni sia del regionale che di Trenitalia. Gli effetti in termini di cancellazione e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario del termine dello sciopero. Si intitola Estra e licei Arezzo contro le mafie e sarà una giornata di conclusione appunto di una serie di incontri che ci sono stati proprio nel territorio aretino con gli studenti. Sentiamo. Nasce per volontà degli stessi studenti che volevano capire che cosa fosse la mafia, avevano un'idea che la mafia fosse soltanto al sud della nostra nazione, invece abbiamo dimostrato come purtroppo ha radici dappertutto anche qui in Toscana. Il progetto si chiama Noi ragazzi siamo estrani alla mafia e nasce dalla collaborazione tra Estra, liceo Vittoria Colonna e l'associazione l'arte di Apoxio Meno. Per contribuire a quella formazione, quella informazione costante e continua che dobbiamo rivolgere ai nostri ragazzi che spesso guardano al fenomeno mafioso come qualcosa di estremamente distante o cinematografico. La Toscana è un territorio fragile da molti punti di vista, è vero che la società non è permeata da fenomeni mafiosi diretti, però è una società a rischio da questo punto di vista proprio per la ricchezza diffusa che ha nel territorio. Gli studenti sono stati così coinvolti in quattro masterclass dedicate alla lotta alla mafia. Abbiamo come primo incontro avuto la Maria Rosaria Costa, la vedova di Vito Schifani, poi abbiamo avuto il prefetto Mori e il colonnello De Donno che hanno raccontato praticamente le indagini contro l'organizzazione criminale mafiosa soprattutto in Sicilia, poi abbiamo avuto la Monica Dobrovosca che ha raccontato quelle che sono state le indagini di Roberto Mancini, il marito morto a causa della terra dei fuochi, e per ultimo incontro i vigili del fuoco e l'associazione delle vittime di via dei Giorgofili. Dunque siamo arrivati a dimostrare che la mafia ha colpito anche qui e anche in maniera cruenta. Il progetto vedrà la sua conclusione nel convegno del 7 maggio al Teatro Petrarca al quale sarà presente anche la presidente della commissione antimafia, l'onorevole Chiara Colosimo. Per loro è stato un aprire lo sguardo su un problema che tuttora purtroppo è presente nel nostro paese, quello della mafia appunto. E quindi una volta tanto la cosiddetta educazione civica, educazione a legalità, ha trovato un riscontro concreto in testimonianze, in lavori specifici che i ragazzi porteranno anche all'ultima giornata al Teatro Petrarca in cui ci sarà appunto la presidente della commissione antimafia. Arriva ad un numero importante, una cifra tonda, un bellissimo compleanno, 70. Queste sono le edizioni del mercatino dei ragazzi del Calcit. La prossima appunto edizione con questo numero così importante da festeggiare è stata presentata proprio questa mattina. Era il primo ottobre del 1978 quando Piazza Saiacopo fu invasa da scatoloni di giornalini e giocattoli usati, così nacque il mercatino dei ragazzi del Calcit, manifestazione che quest'anno taglia il traguardo delle 70 edizioni e che è stata presentata alla scuola primaria statale Pio Borri. Dopo la pandemia avevamo ovviamente smesso questa buona abitudine, adesso la riprendiamo e ha un significato ovviamente di sensibilizzare i ragazzi e di riprendere qualcosa che nei primi anni del Calcit c'era una grande adesione da parte delle scuole perciò poi un pochettino si è persa ma adesso cerchiamo piano piano di riprenderla perché in questa maniera pensiamo appunto di preparare quello che sarà nei mercatini del futuro che sono veramente animati dai ragazzi. Infatti già in questa edizione ci sono diverse scuole che hanno aderito. 250, i banchi 400, le bambine e i bambini che domenica 12 maggio saranno presenti nella zona Eden. L'obiettivo resta quello di raccogliere fondi per il servizio scudo, cura domiciliari e oncologiche. I nostri incassi vengono destinati esclusivamente alla sanità pubblica, in modo particolare al servizio scudo che è un stato ed è molto apprezzato da tutta la popolazione per l'uso e la sensibilità, non solo la professionalità di queste persone che lo frequentano. Come ogni anno a tutti i partecipanti sarà consegnata la medaglia ideata dai ragazzi della sezione Orafi del Margaritone, mentre gli studenti dell'istituto comprensivo Cesalpino si sono già messi all'opera per un altro grande evento Targhetto Calcit Magni e Cuore in calendario, domenica 26 maggio in Piazza Grande. I ragazzi stanno preparando tutte le buste dove verranno messe le coperte acquistate e onestamente non possiamo svelare ma sarà una bellissima edizione come la precedente e quest'anno ci sono anche grandi novità che adesso non possiamo venire, vi aspettiamo tutti in Piazza Grande. E' stato il maestro Donato Renzetti a chiudere al Teatro Petrarca l'ultimo appuntamento della stagione concertistica a Retina. Quattro note introduttive, famosissime anche nella cultura pop, è stata la celeberrima Quinta Sinfonia di Beethoven ad aprire il concerto al Teatro Petrarca dell'Orchestra della Toscana, diretta dal maestro Donato Renzetti, tra i direttori d'orchestra italiani più affermati nel mondo. L'ultimo appuntamento della stagione concertistica a Retina si è chiuso così con un viaggio nell'Ottocento. Sono due pezzi in fondo che si possono anche collegare, nel senso che la Quinta di Beethoven non ha bisogno di presentazioni, il famoso tema del destino, queste tre note che sentite, che lo stesso Beethoven diceva è il destino che picchia la porta, destino nel senso che lui stava per diventare sordo, sentiva questo suo futuro negativo, che avrebbe poi non sentito più la sua musica e quindi ha voluto scrivere questo tema, ha diventato poi forse una delle più grandi sinfonie che abbiamo avuto prima del Novecento, altre sinfonie uguaglianti. E poi il destino di Foré, perché Foré che ha scritto tanta musica è diventato più famoso con questo requiem che ha dovuto rimaneggiare tre, quattro volte. Sul palco del Teatro Petrarca anche il coro della Fondazione Guido D'Arezzo, formazione da camera professionale al suo debutto. Sono il risultato delle audizioni ufficiali che ha fatto la Fondazione a marzo e abbiamo fatto una lista di doneità, sono arrivate 65 circa richieste da tutta Italia. Abbiamo fatto una lista di doneità, come ho detto prima, e il gruppo che sentite questa sera è un gruppo vocale, un coro da camera, diciamo così, di professionisti che per la prima volta debutta ad Arezzo nel Teatro Petrarca con un'orchestra in un contesto professionale. È un organico, è un progetto, è un sogno che io avevo da tanti anni per la Fondazione, non per me, e questa sera c'è il debutto ufficiale. E rimaniamo allora al Petrarca dove domani invece ci sarà la conclusione di Science Lab. Tutto pronto per il gran finale dell'Arezzo Science Lab. Appuntamento sabato 4 maggio al Teatro Petrarca con Paolo Ferri e la sua sfida di Marte. Sì, alle 21 vi aspettiamo al Teatro Petrarca, in questo splendido posto dove parleremo con Paolo Ferri, che è un fisico, ha fatto parte per 40 anni dell'Agenzia Spaziale Europea, ha diretto varie missioni, tutte relative al mondo di Marte. È un grande personaggio, un argomento fra l'altro anche teoreogenio, di grande interesse, anche se vuoi curioso, poetico, perché interessa grandi bambini, in questo teatro bellissimo che è il Petrarca, quindi sicuramente sarà una serata molto bella, appassionante. È un argomento anche se vuoi poetico, cinematografico potremmo dire. Ci sarà poi un ultimo appuntamento di questa seconda stagione. Sì, poi venerdì prossimo, il 10 al Circolo Artistico, avremo Andrea Rinaldo, che è molto famoso nel mondo perché ha vinto il Water Prize, che sarebbe il premio Nobel legato all'acqua e alle scienze ambientali. È un professore dell'Università di Padova di Costruzione Idraulica, insomma un argomento estremamente attuale come quello dell'acqua, della sua redistribuzione, dei finanziamenti, delle politiche internazionali per il futuro, quindi sicuramente è un argomento di grande interesse. Lo faremo al Circolo Artistico, è l'ultimo evento, alle 21 venerdì prossimo. Si chiude così questa seconda stagione, possiamo definirla senza dubbio una sfida vinta? Sì, a proposito delle sfide di Marte, una sfida della cultura, la potremmo chiamare, sì, una sfida vinta perché qualche punto interrogativo nella fase iniziale c'era, però insomma la città ha risposto benissimo, i teatri sono sempre stati pieni, l'amministrazione ci è stata molto vicino, i nostri sponsor, che sono anche essi delle eccellenze, ci hanno aiutato in questo bellissimo progetto, quindi sicuramente una seconda edizione che chiuderemo con il botto e siamo già pronti e carichi per iniziare per la terza. Ed infine siamo allo sport, un'iniziativa anzi un po' a metà tra lo sport e la solidarietà. Questa sera nei campi dell'Olmo Ponte si è giocato il torneo per ricordare Don Paolo De Grandi, appunto il sacerdote scomparso nel 2016 a causa di un malore. L'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione di Arezzo, aveva il patrocinio della Diocesi di Arezzo ed è stato proprio il Vescovo a dare il calcio d'inizio. Il primo gol lo segna la rappresentativa della Gendarmeria Vaticana contro la squadra di calcio A5 formata da soli parroci della Diocesi Aretina. Penso che oltre ai nostri incontri, quelli di servizio pastorale, possiamo vivere insieme questi incontri a livello sportivo e quindi vivere un momento, un pomeriggio, una sera insieme, giocando. Penso quell'elemento di hobby, di stare insieme. Siamo nei campi dell'Olmo Ponte ad Arezzo. L'occasione di questa partita è un torneo in ricordo di un prete calciatore, Don Paolo De Grandi, scomparso per un malore proprio in un campo da calcio nel 2016. Don Paolo lo conoscevo, ho giocato qualche partita contro di lui a livello amatoriale, abbiamo spesso discusso, litigato in campo perché era veramente una persona, oltre ad essere un gran calciatore, perché era veramente un calciatore bravo, era anche uno che non voleva perdere, era veramente un vincente nell'animo. La Clericus Arezium è nata poche settimane fa. Al suo attivo già altri incontri, sempre con scopi benefici, ma alla fine, come ci racconta Don Salvatore, ogni domenica si gioca una partita. Cosa ci unisce la domenica, ognuno dislocato nelle proprie parrocchie? L'eucarestia, la messa. Qui ci unisce il gioco del calcio con un pallone che deve essere passato il miglior modo possibile per poter andare in rete, lì ci unisce l'eucarestia, celebrata nel modo più bello possibile e anche più autentico. Ma bisogna anche attaccare, Francesco, facciamoli salire un po'. Ad Alberto, più in là! È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio allora con la nostra programmazione, ovvero musica e cabaret, e poi non perdetevi appunto la puntata sulle elezioni amministrative a confronto ai candidati sindaco per il comune di Marciano e poi invece la, per il momento, unica candidata sindaco per il comune di Talla. Grazie per l'ascolto e arrivederci. 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 Grazie per l'ascolto e arrivederci.